Ma dai, ma perché non ti sei ancora preparato? Dovemo andare alla festa di Lina. Non ho voglia. Vacci te. Senti. Vai. Preparati. Va bene, se lo vuoi te. Sì! Grazie, grazie, grazie. Dai, dai, preparati. Wow, ma sei bellissima. Grazie. Vabbè, coraggio, andiamo alla festa. Tu cosa ordini? Mmm, la pizza con le patatine. Io prendo la pizza a quattro formaggi. Oggi mi sono troppo divertita. Vabbè, ci vediamo domani. Ok, ma prima un abbraccio. Allora, ciao. Oddio, ma come fa Lina a invitare questa sfigata? Ma guarda come si veste. Ma tu ti sei visto allo specchio? Sembra di no. Che rabbia. Guarda che questo pugno te lo faccio rimangiare. Fallo se hai il coraggio, tanto io non ho paura di te. Ma come ti permetti? Tanto? A me non me ne frega. Ma ricordi te una cosa. Raconterò tutta la polizia.